Allora andiamo avanti a parlare dei file del modo di utilizzarli in particolare vedremo un esercizi innanzitutto sulla lettura dei file stessi, che è la parte di solito più complessa, più articolata, ricordo solo all'idea di flash quello che avete visto la settimana scorsa che un file contiene dei dati ed è salvato sulla memoria di massa, nel momento in cui vogliamo leggere, acquisire i contenuti di questi file è necessario innanzitutto creare un collegamento tra il nostro programma e il file stesso e questo avviene attraverso la funzione open che ci restituisce un oggetto che non è esso stesso il contenuto del file ma è un oggetto attraverso il quale è possibile accedere al contenuto del file, ad esempio, dove sono, con una serie di metodi tipo read, read lines, iterazione di un ciclo for in che ci permettono di andare a acquisire un pezzo per volta il contenuto del file, un pezzo per volta perché si dà per scontato che un file possa contenere anche una enorme o grande quantità di dati e quindi non è detto che il programma se li voglia mangiare tutti insieme, magari li elabora poco per volta via via chi li legge per evitare di occupare una quantità di memoria, memoria principale, memoria RAM troppo grande se il file effettivamente contenesse dei dati sterminati e quindi ce li fa leggere poco per volta. La seconda caratteristica dell'accesso ai file è che è un accesso sequenziale che vuol dire che per poter leggere la riga 5 devo aver prima letto la riga 4 e prima di questa la 3, la 2, la 1 eccetera e dopo che ho letto la riga 5 non la posso più leggere, l'ho già letta e quindi ciò che leggerò dopo sarà la riga 6 e quelle successive. Quindi nel momento in cui apro un file con la funzione open, accedo al primo carattere e poi ogni operazione di lettura mi farà avanzare questo cursore immaginario e ogni volta riuscirò a leggere un carattere successivo, una riga successiva, dipende poi da quale metodo uso che dice quanti caratteri andare avanti, però è sempre caratteri o righe nuove rispetto a quelle che ho visto prima. Quindi devo fare attenzione perché una volta che ho letto un dato o lo memorizzo oppure quando leggo quello successivo questo viene perso per sempre. Non è possibile tornare indietro, vedere cosa c'era nella riga prima e l'altra costante di tutte queste operazioni sui file, sulla lettura dei file, è che il risultato viene sempre, sempre restituito sotto forma di stringa. Stringa di un carattere, di 10-15 caratteri che contengono la linea eccetera, sempre. Il che vuol dire che ogni volta che un nostro file scontenesse dei dati che devo analizzare, tutta la ginnastica, tutti gli esercizi che abbiamo già fatto sulle stringhe ci tornano utili, anzi ci tornano fondamentali per riuscire a estrarre quei contenuti. Quindi alla fine operare in lettura su un file significa padroneggiare queste 4-5 funzioni per capire quella e quella più comoda, come leggo il file e poi elaborare stringhe e costruirsi delle strutture dati all'interno delle quali poter memorizzare o elaborare i contenuti che del file. Ci sono strategie diverse, il file lo posso leggere un carattere per volta, una riga per volta, un blocco di caratteri per volta, a seconda di cosa ci devo fare. L'altra cosa particolare è che a differenza della lettura da tastiera che avviene attraverso la funzione input, la lettura del file, a un certo punto il file finisce, mentre invece una lettura dell'input io posso sempre sperare che ci sia ancora un input successiva in cui l'utente mi dà un altro dato, mentre invece quando il file è finito, è finito e quindi tutti questi metodi ci dicono anche, ci permettono anche di capire quando il file è finito e tipicamente lo fanno restituendo una lista vuota, una stringa vuota, scusatemi, stringa vuota da non confondere, e ce l'ho qua come memento, da non confondere con una riga vuota, ok? Quando io ho una read line, una read che mi restituisce una stringa vuota vuol dire che ho già letto oltre la fine del file, non c'è più niente da leggere, è finito, stringa vuota. Quando invece trovo una riga bianca, una riga vuota, con niente scritto, in realtà quella riga lì contiene sempre un carattere, che è il carattere di fine linea, quindi il carattere di fine linea è una grande rompiscatole, perché ogni volta che leggiamo una linea del file, questo viene istituito sotto forma di stringa che comprende anche il carattere di fine linea. Occhio che la input non lo fa, input non ti istituisce il carattere di fine linea, invece la read line sì. E quindi tutte le volte che leggiamo un dato dobbiamo ricordarci che in fondo a quel dato c'è un carattere in più, che è fondamentale perché mi permette di capire se su quella riga c'era qualcosa oppure no, però nella maggior parte dei casi non mi serve, ok? E quindi dovrò fare un pochino di lavoro in più per togliermelo dai piedi. Allora, proviamo a vedere, salto un po' avanti e indietro perché mi viene meglio, generalizzare un pochino su quello che avete già cominciato a vedere la volta scorsa, cioè leggere un file che contenesse dei nomi, dei numeri eccetera, no? Questo si tratta di file di testo memorizzati semplicemente col codice ASCII, anzi Unicode, che in qualche modo contengono dei dati, no? File di questo genere, come c'è scritto qua, no? Immaginiamo di avere un file che contiene che sono nomi di nazioni e la popolazione di queste nazioni, cose di questo genere. Quindi non è un file di testo che io leggo come se fosse una filastrocca, ma è un file che è codificato in formato testo che contiene varie informazioni. Normalmente c'è un'informazione per ogni riga e questa informazione è fatta di più dati, di più campi. Allora, solo a livello di terminologia tra di noi, una riga la possiamo chiamare un record, una singola registrazione, un singolo dato, un record, fatto di più campi. Quindi diremo che i dati, questo file contiene dei dati, un record per linea, un record rappresenta una nazione e ciascun record contiene al suo interno due campi, che sono il campo nome e il campo popolazione, in questo caso. Ok? E in questo caso i campi sono separati, in questo esempio, dal simbolo di due punti. Allora, io parto con un esempio, più vicino a noi. Immaginiamo di avere un file di testo in cui abbiamo salvato i voti che stiamo prendendo agli esami qua al primo anno. dove per ogni esame c'è il nome dell'esame, il numero di crediti di quell'esame e il voto che abbiamo preso. Un esempio di un piccolo file di testo che ci siamo fatti da soli. E cosa voglio farci? Voglio calcolare, ad esempio, la media pesata di quei voti. Cioè la media dei voti tenendo conto che questi voti non sono tutti corrispondenti a insediamenti dello stesso numero di crediti. Alcuni voti pesano più di altri perché sono corrispondenti a esami che hanno più crediti. Quindi mi basta fare la media aritmetica tra i vari numeri, dovrò fare una media appunto pesata, pesandola col valore del credito. Ok? Quindi se vogliamo matematicamente che cos'è la media pesata? è la sommatoria del valore del voto moltiplicato per il CFU del singolo esame diviso la somma di tutti i CFU, di tutti gli esami sostenuti. Non faccio la somma dei voti diviso N, ma la somma dei voti moltiplicati ciascuno per il proprio peso diviso la somma dei pesi. Vabbè, questo è facile, per arrivarci però devo leggere questi dati. Allora, io qua ho subito due scelte. La elaborazione che devo fare adesso è semplicissima. Quasi sempre, quando devo elaborare dei dati da un file, la prima domanda che mi pongo è organizzo due parti diverse del programma, una che acquisisce i dati e la seconda che gli elabora? Questa è un'opzione. C'è la possibilità di dire, ok, ho due parti del programma, la prima parte legge i dati e li memorizza in qualche struttura dati interna, mia. Poi c'è un'altra parte del programma che fa i conti che deve fare usando semplicemente i dati della struttura dati che ho appena letto dal file, ho appena costruito leggendo il file. Questo separa le competenze. Una parte del programma si occupa solo della lettura del file, salva i dati da qualche parte e non si preoccupa del motivo per cui mi servono, di che elaborazioni ci devo fare. La seconda parte del programma non è più preoccupata delle operazioni di ingresso, di input, della lettura del file. Ha dei dati che ne so, saranno in una lista, in una serie di liste e deve semplicemente fare dei conti come abbiamo fatto finora senza sapere nulla sui file. Quindi dal punto di vista logico è facile separare le due fasi. Qual è il, diciamo così, il contraltare? Qual è la parte negativa di questo approccio? Beh, è il fatto che io a un certo momento devo leggere tutti i dati del file e averli in una struttura dati completa. Questo magari mi fa fare più calcoli del dovuto e chi se frega, ma magari mi fa occupare una quantità di memoria esagerata. Adesso non sicuramente sul file che abbiamo visto come esempio. L'altra grossa scelta è, in alternativa a questa, è cercare di fare le elaborazioni man mano che leggo il file. Cioè io alla fine leggo una riga, mi serve che cosa? Mi serve il CFU e il voto. Allora, li estraggo, adesso vediamo come faccio a estrarli, e li prendo, cosa faccio? Già che ci sono, li moltiplico, li sommo. Poi passo la riga successiva, non mi interessa mai di memorizzare tutti i voti, tutti gli esami, eccetera. Se man mano che leggo il file posso già, seduto a stante, mi verrebbe dire, cioè nello stesso ciclo, fare i calcoli che mi servono. Allora, questo secondo caso ha, se vogliamo, lo svantaggio che devo contemporaneamente pensare sia alle problematiche della lettura, della decodifica del file e sia ai calcoli che devo fare, ha il vantaggio che alla fine tendenzialmente è più breve e non occupa praticamente memoria, perché io leggo semplicemente e lavoro una riga per volta. Non sempre si può fare, perché ci sono certi tipi di elaborazioni che non potrai fare man mano che li leggi, per dirne una semplice da capire, se io dovessi stampare l'intero file al contrario, partendo dall'ultima riga verso la prima, la prima che leggo è l'ultima che devo stampare e quindi non posso fare a meno di leggere tutto il resto del file prima di poter stampare la prima riga. Quindi ci sono casi in cui non posso determinare l'output riga per riga, ma devo per forza avere tutto il file e poi dopo elaborarlo e stamparlo, ad esempio. Proviamo questo esercizio così semplice a farlo nei due modi. Allora, il primo modo, quello più grezzo, diciamo così, proviamo a elaborare man mano che arrivano. Poi cerchiamo di strutturarlo un po' meglio. Allora, vuol dire che io ho i voti che mi interessano dentro questo file, io ho definito una costante con il nome del file voti, semplicemente per averlo facile da modificare, e quindi posso aprire il file in modalità lettura. Questa è l'operazione di apertura del file, dato il nome con cui è stato salvato quel file, assumendo che sia nella stessa cartella in cui c'è il programma, e il secondo argomento, sapete che è la modalità di accesso. Nella maggior parte dei casi è semplicemente una R, che dice accesso in lettura. Poi, nel caso in cui, non è questo il caso, ma facciamo il caso generale, il file contenesse anche delle lettere accentate, lettere che sono al di fuori del codice ASCII base, devo anche indicare come è stato codificato questo file, e quindi soprattutto usare un parametro aggiuntivo che dice l'encoding, che per noi, nella maggior parte dei casi, è UTF-8, vedete che lo dice anche l'edito sotto, che questo fa, beh, questo è il file Python, non c'entra nulla, ma se io vado ad aprire il file con i voti, quando l'ho creato, l'ho salvato, lui l'ha salvato in UTF-8, che è la codifica Unicode su 8 bit. Questo parametro encoding è particolarmente importante se usate dei computer con sistema operativo Windows, perché per default le versioni di Python che girano sotto Windows usano una codifica che non è Unicode, mentre invece Visual Studio, quando salvate i file, li salve invece in formato Unicode, per cui se contengono le lettere accentate, e non specificate l'encoding su sistema operativo Windows, si saltano fuori dei caratteri strani, ok? Però non è detto, però poi casualmente, diciamo così, Linux e il Mac usano UTF-8 come codifica di base, e questo problema non c'è, quindi non ve ne accorgete. però se lo prendiamo per abitudine, così scrivono dei programmi che funzionano correttamente su tutti i sistemi operativi. e poi la cosa da fare subito appena si è aperto un file è chiuderlo, è ricordarsi di chiuderlo. Quindi tutto il programma dovrà essere, tutta la parte di programma che usa il file, dovrà essere tra l'operazione di apertura e l'operazione di chiusura del file stesso. Chiudere il file vuol dire dire al sistema operativo, beh, ho chiesto prima con la Open di accedere al contenuto di quel file, e quindi tu mi hai dato un oggetto che qui ho chiamato F, ho salvato una variabile F, attraverso cui potrò fare le operazioni. Però poi ti dico quando non ne ho più bisogno. E quindi questo collegamento che era stato creato lo puoi interrompere. Quindi dico il sistema operativo, va bene, ho finito di lavorare su quel file lì, close. Se me lo dimentico non è gravissimo, perché nel momento in cui, quando finisce il programma, tutti i file aperti vengono chiusi automaticamente, però se il programma non dovesse finire, dovesse passare a fare altre cose, non è bello avere una certa serie di file ancora tutti aperti, perché occupano comunque risorse nel calcolatore. Ok, detto questo, devo leggere i voti, abbiamo detto proviamo a fare i conti subito, no? Fare i conti subito vuol dire tenere traccia di queste due sommatorie. Quindi, come sempre, quando devo sommare una serie di dati, avrò due contatori, che sarà la somma dei voti per CFU, che parte da zero, e la somma dei CFU, che anch'essa parte da zero. Poi avrò un ciclo for che legge tutti i dati uno per volta e aggiornerò queste due somme internamente, dato per dato. per acquisire i dati cosa faccio? Leggo righe successivi del file. La cosa più semplice è, visto che devo leggere un file una riga per volta, e usare o l'operazione readline, oppure direttamente il ciclo for, riga in F. In questo caso, questo ciclo fa due cose. Iterando sul file, mi restituisce una riga, una stringa, che viene memorizzata nella variabile riga, per ogni riga del file. Prima cosa. Quindi mi dà, una dopo l'altra, tutte le righe del file. Ad ogni interazione, mi dà la riga successiva. La seconda cosa che fa, è che si accorge quando il file è finito, ed esce dal ciclo. For. Quindi, stiamo usando la sintassi for in, dove il file F è usato come un contenitore. Potevamo ciclare sulla contenitore di tipo stringa, potevamo ciclare sul contenitore di tipo lista, cicliamo sul contenitore di tipo file. E in questo modo, un file è un contenitore di righe. Questa sintassi ce lo fa vedere in questo modo. e io quindi mi vado a beccare una riga per volta. E quindi vado a leggere, la riga ce l'ho già qua, che è cosa? È questa, perdon, questa stringa. Contiene i caratteri di informatica, spazio 8, spazio 30, caratteri a capo. ok? Allora, dovrò prima di tutto separare questi campi, che sono in unica stringa, per separare il nome del corso, che in realtà non mi serve, dal numero di crediti, dal numero di, dal voto acquisito. e quindi, l'operazione per fare questo, tipicamente, è uno split, che prende una stringa, e istituisce una lista di stringe. ok? Io, se non metto nessun argomento, come argomento della metodo split, sto sottintendendo, fammi lo split, ovunque ci siano degli spazi bianchi, uno o più spazi bianchi, funziona da separatore. Se invece, avessi un separatore diverso dallo spazio, devo metterlo, indicarlo, tra virgolette, come argomento dello split. La cosa che, si può anche fare, ricordiamoci che questa riga, sarà, perdon, conterrà, questi caratteri, più il carattere di fine linea, che qui non si vede, ma c'è, e quindi, tanto vale, toglierlo dai piedi. Proviamo a vedere perché. Proviamo a fare, io memorizzo i campi, di questa riga, in una variabile che ho chiamato campi, vediamo cosa succede in modalità debug. Perché mi dici che non trova il file, aspetta. Ah, ecco, se questo vi succede, nel senso che, allora, vi faccio vedere meglio, se io faccio run, il file part, in realtà non fa nulla, io posso mettere una print, per vedere, print campi, faccio run, e mi stampa questa roba. Ok? Però, se provassi a fare debug, quindi mi trova il file, lo legge, poi facciamo le elaborazioni che ci servono. Se invece provassi a fare debug, mi dice che il file non esiste. Questa è una stranezza di Visual Studio Code, perché, quando facciamo RAM, quando facciamo debug, il debug lui fa partire il programma in due modi diversi. Ok? Allora, questo, si risolve, e c'è una slide che spiega come, adesso lo andiamo a prendere, forse l'avete già visto la volta scorsa, ma, la riprendiamo, perché è la tipica cosa, in cui uno dice, ma non mi funziona niente. Ci sono due impostazioni, di Visual Studio Code, una per, che dice, dobbiamo dire, a Visual Studio Code, guarda che il mio programma, cercherà di aprire dei file, e i file li trovi nella stessa cartella, in cui c'è, il Python. E c'è un'impostazione, che è quella che è indicata qua, che viene usata nel run, quando facciamo run. E quindi dice, quando eseguo un file nel terminale, eseguilo nella stessa directory, nella stessa cartella, in cui si trova il file. Quindi, nelle impostazioni, basta andare in Python Terminal, e spuntare questa opzione. Mentre invece, per quanto riguarda il debug, è più complicato, perché bisogna aggiungere, un'istruzione, nella, diciamo così, nella configurazione, del debug stesso. E, proviamo a farlo insieme. Lui dice, selezionare il menu run and debug, è quello che abbiamo fatto. Poi, usando il tasto debug, siamo rimasti qua. Dice, crea un file launch.json, dentro il quale, lui salva, le configurazioni di debug. Quindi, ho cliccato su, crea un file launch.json, seleziono il debugger di Python, il file attuale, currently active Python file. Quindi, lui, facendo queste due azioni, quindi, selezionare Python file, ha creato questo, file di configurazione, che dice, come fare, a lanciare il file. Quello che facevamo, già automaticamente, però adesso, ci aggiungiamo, due istruzioni, che sono quelle che copiamo, da questa slide qua, che dice, cwd, cwd, due punti, non è work file folder, ma file dollaro, aperta graffa, file, dir name, minuscolo, maiuscolo, minuscolo. Ok, tutte le virgolette, è un po' rognoso da scrivere, ma poi, dopo la prima volta, basta copiarselo, dai progetti, questa è un'impostazione, a livello di progetto, quindi, ogni volta che aprite un progetto, in Google Studio Code, dovete farlo una volta. cwd, sta per, current work directory, cioè la, directory, la cartella corrente, attuale di lavoro, quindi, posiziona, esegui il file, nella cartella di lavoro, che corrisponde, al nome del file, e applica questo, quando voglio, fare debug, quindi, purpose, debugging terminal, cioè applica queste impostazioni, in questo caso, quindi, dobbiamo aggiungere, queste due, clausole, in questo file, launch.json, e a questo punto, tutte le volte, che facciamo, debug del programma, dovrebbe funzionare, esatto, fa cose, ok? Adesso possiamo vederlo, di nuovo in debug, un passo per volta, dove, ad esempio, la famosa variabile, riga, la vediamo qua, com'è fatta, la prima riga, è informatica, spazio 8, spazio 30, barra n, il carattere di fine linea, la variabile f, non mi dice nulla, è semplicemente, l'oggetto, che mi permette, ad accedere al file, ma da f, non ottengo, nessuna informazione, solo dai metodi, che chiamo su f, che posso ottenere, informazione, quindi, l'operazione, che facciamo, con lo split, serve per calcolare, una lista, in cui ci sono, le stesse sottostringhe, che c'erano dentro riga, separate, dove c'erano degli spazi, o, dei caratteri, non visibili, quindi, lo split, nel caso, del barra n, lo considera, come un carattere, di spazio, quindi, di fatto, la split, considera, lo spazio, la tabulazione, o la capo, come se fosse una cosa unica, spazi bianchi, e quindi, mi divide, questi campi, in tre, questa riga, in tre campi, quindi, campi di zero, sarà, il nome del corso, campi di uno, sarà, una stringa, che rappresenta, i crediti, campi di due, sarà una stringa, che rappresenta, il voto, quindi, in questo caso, noi possiamo, estrarre, i CFU, come, int, di campi di uno, e posso estrarre, il voto, come, int, di campi di due, e fatto questo, mi basta fare somme, quindi, devo aggiornare, somma, voti, CFU, aggiungendogli, che cosa, il voto, per il CFU, e, invece, la somma, CFU, aggiungendogli, i CFU, appena letti, e questo, lo ripeto, fino a quando, ci sono, righe nel file, quindi, andando avanti, in debug, io posso vedere, estrago, i campi, che sono qua, poi, il valore, di CFU, in questo caso, è 8, lo vedo qui, campi di 1, era una stringa, 8, CFU, il numero intero, il voto, che è qua sotto, è il numero intero, è stato, convertito in numero intero, e quindi, aggiorno queste due somme, con questi valori, al giro successivo, all'interazione successiva, la variabile riga, assumerà, il contenuto, della seconda riga del file, da cui, estrarò i campi, estrarò i valori, e aggiungerò, le somme, no? E una volta, che ho finito, di tirare su questo file, posso, a questo punto, calcolare, la media pesata, media pesata, è uguale a, abbiamo detto, somma, voti, CPU, voti, CFU, fratto, somma, CFU, e quindi, la stampiamo, con due cifre decimali, e mi viene fuori, che la media pesata, in questo caso, è 25,30, vabbè, calcolo la media, chiaramente, non era il punto, di questo esercizio, cosa può andare storto, di tutto, in questo codice qua, cosa può andare storto, vabbè, può darsi che quando faccio open, il file non ci sia, abbiamo visto cosa succede, quando abbiamo annunciato, per la prima volta, il debug, errore, perché non trovo il file, vabbè, il ciclo four, legge una riga per volta, se non ci sono righe, non fa nulla, se ci sono tante righe, lo farà tante volte, quindi questo non dà problemi, split divide in campi, ma poi io sto dando, per scontato, che ogni riga, abbia almeno tre campi, e in particolare, il secondo e il terzo, perché almeno tre campi, perché se no, quando faccio campi di due, se il campo non c'è, se la riga non avesse degli spazi dentro, non c'è il campo di due, e mi avrei un errore, di accesso all'indice della lista, e poi, sto supponendo, che il secondo e il terzo campo, siano numerici, anzi interi, perché altrimenti, la funzione int, si arrabbierebbe, e poi sto anche assumendo, che i CFU, non siano tutti zero, perché se no, la loro somma, fa zero, e la messa del miniatore, non piace tanto, di uno zero. Questo per dire, che quando io leggo, i dati da un file, o qualcuno mi garantisce, che il file è corretto, quindi contiene quei dati, in quel formato, e so già, che sono senza errori, allora vado facile. Se invece, non fossi sicuro, a priori, che il file, avesse un formato corretto, perché magari, non mi fido, di come è stato creato, e allora immaginate, che in ciascuna, di queste istruzioni qua, dovremmo fare dei controlli. Ci sono i campi, faccio lo split, ci sono tre campi, alla valle dello split, o ce ne sono due, o ce ne sono quattro, perché allora, se c'è un numero diverso da tre, non va bene, devo segnare un errore. Poi, una volta che ho fatto lo split, questo qua è un numero intero, sì, allora lo converto in int, quest'altro è un intero, cioè, capite che facilmente, da quattro righe, diventano quaranta. Ma questo è abbastanza comune, l'avevamo visto nel piccolo, anche quando leggevamo i dati con l'input, leggere il dato, è un'istruzione, controllare che sia giusto, di solito, è un blocco di codice, no? C'è più fatica. Per ragioni di tempo, troverete molto spesso, no? Nei temi d'esame, la frasetta si assuma che il file non contenga errori, e vuol dire proprio questo. Che concentriamoci sull'elaborazione dei dati, che è un caso un po' anomalo, artificiale, no? Perché nella realtà, quando qualcuno ti dà un file, ti dice, elabora questo, non ti puoi mai fidare che sia preciso. Ammetti che uno abbia capito male, ti ha messo prima il voto e poi i crediti, quello che salta fuori è una schifezza, no? pur magari essendo corretto il formato. Questo è il tipico esempio in cui abbiamo detto facciamo tutto insieme. Cioè, in un unico ciclo abbiamo letto il file e fatto l'elaborazione che dovevamo fare. abbiamo mescolato l'operazione di input con l'operazione di elaborazione. Non abbiamo avuto bisogno di nessuna struttura di dati particolare. C'era for riga, la riga era una stringa, estraevo i campi, ma poi la lista campi all'interazione successiva la buttavo via, ne ricreavo un'altra. cioè non c'è mai nessun momento in cui questo programma abbia dentro di sé l'elenco di tutti i corsi e di tutti i voti. Ok? Ecco, in alternativa se noi provassimo la versione alternativa quindi fatemi fare un file che chiamo media pesata 2 in cui parto prima dal stesso punto diciamo separiamo le varie fasi. Quindi in questo caso io penso una fase 1 in cui leggo i dati dal file in una lista scrivo lista con dei punti interrogativi adesso poi ci penso bene come li devo memorizzare una lista due liste una lista di liste ci pensiamo tra un secondo però in una struttura dati mia poi chiudo il file non ci penso più fase 2 dati a partire dai dati nella lista calcolo la media allora la prima metà del programma non si interessa della media di che cos'è prende i dati e li salva la seconda metà del programma non si interessa del fatto che i dati fossero in un file o siano stati teletrasportati da Marte semplicemente ha dei dati e deve fare un calcolo questo modo di ragionare appunto ci porta dietro la necessità di avere una struttura dati qui ho scritto una lista in cui memorizzo il contenuto del file se il file non è enormemente grande alla fine non mi crea grossi problemi quindi salvo casi in cui il file sia dichiaratamente enorme è possibile ragionare in questo modo e ragionare in questo modo a me personalmente dà più tranquillità perché penso una cosa per volta e la mia mente ne è grata perché se o meno cose contemporanee a cui pensare è più facile che non le sbagli e in più il linguaggio stesso mi aiuta perché io posso strutturare le varie parti del programma con delle funzioni cioè posso strutturare questo programma con una funzione principale visto che abbiamo visto le funzioni ma perché mi hai scritto le funzioni è perché sono fondamentali in cui leggere i dati del file di una lista può essere delegato a una funzione che si può chiamare leggi dati o leggi voti che riceve come argomento il nome del file da cui leggere e restituisce una struttura dati che per ora chiamo voti come risultato oh sta funziona è chiaro che bisogna scriverla e poi a partire dai dati di una lista calcolo la media allora a questo punto possiamo avere un'altra funzione che mi calcola media pesata che possiamo calcolo la media a partire dai voti che ho letto prima e poi non mi rimane che fare la print cioè questo è contemporaneamente l'algoritmo il ragionamento la strategia risolutiva e il codice che la implementa perché nel momento del senso che io ho riconosciuto ci sono due parti di programma che fanno due cose diverse e dentro di me ho pensato ma la prima parte del programma che cosa ha bisogno in input per poter lavorare del nome del file e che cosa mi dà in output i dati in una lista e la seconda parte del programma di che cosa ha bisogno dei dati dei voti e che cosa mi dà in uscita un numero allora io questo l'ho esplicitato come due chiamate funzioni e mi obbliga e mi aiuta mi obbliga e mi aiuta è la stessa parola a pensare bene a quali parti del programma hanno bisogno di quali informazioni e di isolarla nel caso di prima c'è tutto mescolato la f del file somma voti campi sono tutte variabili che sono messe tutte insieme qui per ora vedo solamente due variabili una che si chiama voti l'altra che si chiama media pesata chiunque legga questo main capisce cosa sta facendo poi oh non è che le funzioni si scrivono da sole eh si a volte coppaglia ci dà una mano ma dobbiamo poi scrivere noi quindi dovrò poi definire la funzione leggi voti che leggi underscore voti che riceva il nome del file e poi faccia dei conti e restituisca la struttura dati e in mezzo faccia cose ops pardon no? e poi così come lo dovrò definire una funzione calcola media che riceve i voti e restituisce fa cose e restituisce la media no? no? però ciascuna di queste due funzioni in realtà poi non è che faccia cose diverse da prima eh però è isolata lei ha il suo compito no? leggi voti cosa fa? leggi voti eh qui c'è l'abitudine o la possibilità di mettere una stringa di documentazione subito dopo la definizione della funzione quindi dice dato un file legge i voti in esso contenuti scriviamo un primo commento subito dopo la riga della funzione perché uno per spiegare a noi stessi che cosa facciamo potremmo spiegarlo meglio ma due perché ci torna anche comodo perché nel momento in cui uso la funzione vedete che vado con il cursore sopra il nome della funzione mi dice dato il file leggi i voti contenuti quindi mi dà l'help automatico no? della funzione che ho scritto io quindi mi aiuta se avessi un programma più complesso con più funzioni spendo quei due secondi a scrivere cosa fa quella funzione nel momento in cui la chiamo mi fa vedere che cosa fa e magari mi spieghe anche quali sono i parametri che devo usare allora cosa fa la funzione leggi i voti leggi il file quindi dato il nome del file lo apre ma qui a questo punto è la stessa cosa di prima posso andare quasi a occhi chiusi apre il file in lettura con l'encoding unicode lo chiude e in mezzo fa quello di prima for riga in F campi uguale riga punto split ecco adesso devo capire cosa farmene di questi campi perché non li uso più per fare i conti subito ma li devo salvare da qualche parte allora adesso ho due due duecento ma me ne vengono in mente due possibilità semplici una creo una lista con tutti i CFU e un'altra lista con tutti i voti dei nomi me ne frego ok quindi potrei immaginare fatemelo scrivere sotto di avere una lista CFU uguale 8 10 10 8 come era insomma questa cosa qua e un'altra con i voti uguale 30 24 18 insomma quant'erano 1 2 3 4 5 aggiungo ancora un 28 sono due liste di numeri interi e già ho detto numeri interi non stringhe quindi già prevedo di fare le conversioni che so che devo leggere in parallelo è una possibilità in questo caso vuol dire che questa funzione deve costruire internamente queste due liste leggendo il file va bene e poi restituisce questi due valori quindi in realtà l'abbiamo visto prima restituirà non una sola variabile ma due quindi restituirà qualcosa come cfu virgola voti una tupla che comprende questi due valori e quando poi chiamiamo la funzione chiaramente la salveremo il risultato in due variabili e anche il calcolo a media ne dovrà tenere conto cioè avere due variabili separate un altro modo e poi dovremo decidere quale portare avanti vanno bene tutte e due è quello di avere invece un'unica lista a voti che all'interno ha tante piccole liste o tuple per ciascuno dei voti quindi potrebbero essere una lista di liste in cui nella prima colonna c'è il voto la crediti e la seconda c'è il voto poi ho 10 24 poi ho c'è una tabella con due colonne ok una tabella con due colonne in cui nella prima colonna ci sono nelle righe sono i vari voti nelle colonne ci sono la prima colonna quella di indice 0 c'è il CFU nella seconda colonna di indice 1 c'è il valore del voto e così ho una variabile 1 che mi tiene tutto insieme volendo potrei anche aggiungerci il nome come primo campo della lista questo esercizio non mi serve però sai la funzione leggivoti magari può servire a tanti scopi diversi quindi già che ci sono qua di qua li metto dentro tutto la leggivoti non sa quali sono i singoli pezzi del file che mi servono e quelli che non mi servono la faccio una volta sola la faccio che vada bene per tutti la rendo più riutilizzabile anche in futuro e quindi vorrà dire che anziché due ne avrò tre campi di cui so che poi la funzione calcola media avrà bisogno solamente della seconda e della terza colonna ma vabbè se poi qualcuno mi venisse in mente ah ma adesso mi serve sapere qual è l'esame che è andato meglio cacchio devo ricominciare da capo perché non mi ero salvato i nomi degli esami e così via vabbè adesso non perdiamo eccetera capite che questa seconda modalità è anche più versatile e anche se avessi non tre campi ma sette sarebbe più comodo da gestire che non quella di avere tante variabili separate e quindi a distinto mi viene da dire usiamo la seconda o una variabile sola che dentro è strutturata in modo da avere tutti i dati poi impareremo tra due settimane che dati strutturati di questo genere li memorizzeremo in un contenitore che si chiama dizionario e non in una lista per il semplice fatto sarà più comodo così perché sono dati di tipo diverso cioè di questa lista interna la colonna 0 la colonna 1 e la colonna 2 sono diversi contengono cose che non si mescoleranno mai insieme perché uno è il nome l'altro i crediti l'altro sono il voto li teniamo insieme perché vabbè ci troviamo bene a lavorare con le liste sappiamo come farlo però è una lista un po' del genere no? perché contiene dati che tra di loro non si possono né sommare né confrontare ma ci va bene per ora no? allora andiamo a commentare questo blocco qua e se scegliamo la seconda versione è facile perché a questo punto io dovrò creare dentro la funzione una lista vuota ricordiamoci una tabella no? righe colonne quindi creo la tabella vuota e poi ad ogni volta ci aggiungerò una nuova riga e questa riga sarà voti.append cosa? una lista che contiene i campi che ho appena letto dal file contiene campi di 0 contiene int di campi di 1 contiene int di aperta tonda di campi di 2 allora qui cosa stiamo facendo occhio alle parentesi vado un po' a capo così le vediamo meglio ho fatto voti.append e quindi aggiungo dentro voti un nuovo elemento questo elemento è una lista è una riga della tabella e quindi vedo le parentesi quadre che mi delimitano questa riga questa riga ha tre elementi e questi tre elementi sono quelli che ho appena letto dal file il primo campo il secondo e il terzo solo che il secondo e il terzo erano stringhe e le voglio salvare come interi e quindi non le posso copiare tra le quali li passo dentro la funzione int ecco qua mi do una regola che quando devo convertire dati da stringhe intere stringhe a float è meglio farlo il prima 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 possibile cioè appena l'ho letto dal file perché nessuno mi vieterebbe di lasciare lì dentro la stringa i crediti come stringa o i voti come stringa però poi tutti gli altri punti del programma in cui mi serve leggere quel valore devo prenderlo ricordarmi con una stringa e convertirlo in intero ecco se lo faccio all'inizio visto che so che è un intero lo faccio subito appena lo tocco prendiamole in mano una volta sola se fossero tutte stringhe io avrei potuto scrivere direttamente vuoti punto apprendi campi se fossero tutte stringhe visto che non sono tutte stringhe e su ciascun campo devo fare cose diverse e beh mi sono dovuto costruire una listarella fatta come piace a me posso stringhe e li volessi mantenere come stringhe in questo caso no ok se facciamolo così splittato su più righe poi chiaramente quando lo scriveremo faremo attenzione alle parentesi chiaro che quando poi uno legge vede chiusa quadra chiusa tonda chiusa quadra chiusa tonda tutto di file se non ha capito cosa ha fatto diciamo cosa è successo qua ogni pezzo chiaramente ha un suo significato quando lo scriviamo lo capiamo bene e alla fine restituisco questo quindi questa funzione leggi voti non fa altro che leggere tutto il file salvare i dati salvare i dati dentro questa lista voti che parte vuota via via si riempie e poi viene restituita al programma principale quindi proviamo a vedere tolgo questa parolina qua che mi dà errore di sintassi e per ora commentiamo questo per vedere cosa succede quindi per ora ho lobotomizzato il main facendo solo chiamare la prima funzione e poi stampando il risultato ok allora se io faccio run di questa non succede nulla cosa ho fatto qua via questo non c'entra niente non succede nulla e questo è un errore stupido ma frequente quindi vale la pena citarlo perché io ho definito la funzione main ho definito la funzione leggi voti ho definito la funzione calcola media eccetera ma non ho chiamato nessuna di queste funzioni quindi questo programma python adesso contiene tre istruzioni def main def leggi voti def calcola media e basta ha definito tre funzioni boh basta poi le dimentica perché il programma è finito dobbiamo sempre ricordarci quando facciamo queste cose che poi come ultima cosa prima di andare a far merenda bisogna chiamare il main perché se scrivi il programma file run non succede nulla la prima cosa che mi viene in mente è l'ho scritto main che va sempre indicato come l'ultima istruzione in pratica perché quando chiamo il main devo aver già definito tutte le funzioni di cui lui ha bisogno quindi le funzioni le posso definire nell'ordine che voglio cerchiamo a mettere il main davanti e le funzioni sotto cerchiamo a mettere tutte le funzioni prima e poi il main sotto quelli che arrivano dal cipro e mi dicono così è uguale l'importante è che nel momento in cui chiamo main abbia già visto tutte le funzioni perché altrimenti nel momento in cui la chiamo dice no guarda questa se l'hai definita sotto non l'ho ancora vista allora avendo chiamato il main adesso vedo qua in questa print che cosa mi ha costruito che è proprio il tipo di struttura dati che avevamo in mente prima una lista di liste le listarelle piccole sono i singoli esami la lista grande è l'elenco degli esami e allora a questo punto quindi sono qua nel main posso preoccuparmi della seconda funzione la calcola media che è qua che è semplicemente vabbè facile a questo punto media uguale anzi anche qua devo fare la somma dei cfu la somma dei voti per cfu iterò sui voti for voto in voti perché voti a questo punto non è più il file è la lista la lista di liste e quindi la somma dei cfu la ottengo andando a incrementare voto di 1 ricordiamoci colonna 0 è il nome colonna 1 è il cfu colonna 2 è il voto voto in voti la variabile voto è la singola riga e la somma dei voti cfu la incremento di voto di 2 e poi una volta che è finita questa sommatoria return la media quindi somma dei voti cfu diviso scfu io tra l'altro qua mi sono permesso di usare i nomi di variabili anche più corti no? perché a chi se frega queste variabili nascono e muoiono qua dentro cioè mentre prima tutte le variabili erano in un unico programma e quindi era importante sapere che cosa fosse una variabile anche dandogli un nome anche più esteso qui ho usato sito s anziché somma stiamo facendo una somma non si vede che sto facendo una somma quindi posso anche prendermi delle scorciatoie tanto rimane tutto lì dentro queste variabili non sono visibili dal main le variabili del main non sono visibili dalla funzione ogni funzione ha le sue variabili che non sono condivise con le altre mai e quindi questo dovrebbe bastare se non ho dimenticato dei pezzi a completare che la media pesata è sbagliata perché 2,78 non mi sembra proprio ecco sono contento di aver sbagliato perché mi permette di dire che di sicuro l'errore nella seconda funzione perché la prima l'abbiamo già guardata e funzionava se invece scrivo tutto insieme quando è sbagliato dirò l'errore è da qualche parte punto ok quindi cosa ho sbagliato qua voti 1 somma voti sembra bella scusa questa somma voti cfu eh cosa ho sbagliato ah già l'ho moltiplicato grazie è un lusso avere voi no? non a caso in molti casi si fa il per programmi si programma in due ecco 25,3 è il numero che mi aspettavo quindi qua è chiaro che se vado a vedere vado a confrontare questo codice con quello di prima cosa ho fatto con quello di prima è più lungo eh allora a parte che sono stato molto arioso con gli a capo eccetera ma ci sono più istruzioni alla fine c'è poco da fare non è che lo nascondo è più leggero dal punto di vista cognitivo l'ho pensato un pezzo per volta lo posso testare un pezzo per volta lo posso debaggare un pezzo per volta e mi sono obbligato a pensare bene a queste cose qua come sono fatti i miei dati come li voglio vedere come posso accedere cosa che se invece mi metto a pigiare sui tasti con tutto rispetto per i tasti non ho mai forse il momento in cui la chiarezza mentale è di dire i dati li voglio così poi questo esercizio devo fare una cosa solo devo uscire un valore solo i dati più complicati quando le cose poi cominciano a aggiungersi tu crei altre variabili altre cose è facile perdere il controllo quindi io personalmente non ci penserei su due volte perché magari ci metto cinque minuti in più a scrivere queste istruzioni in più o fare questo ragionamento i ragionamenti iniziali non sono mai sprecati ritorno sempre ma ci metto magari venti minuti in meno nella fase di debugging ci farò funzionare perché lo posso debuggare a pezzi addirittura uno potrebbe dire ma proprio non mi viene perché l'algoritmo della media è stranissimo è complicatissimo non questo è complicatissimo allora sai cosa faccio? mi faccio un altro programma che non c'entra niente col suo main e chiama solo questa funzione con dei dati che ho fatto io e lo provo e la faccio funzionare a parte la funzione può essere anche estrapolata da un programma usata in un altro che va a fare dei test c'è quella funzione lì ha dei problemi anziché farla lavorare nel programma principale che magari legge dei dati dal file eccetera un programmino apposta per mettere apposta cioè sono tutte strategie di sopravvivenza o di debugging questa possibilità di chiaramente spezzare in più funzioni funziona solamente se scegliamo a monte di memorizzare i dati da qualche parte quindi non funziona se devo leggere i dati un po' per volta anche se un pochino si potrebbe fare nel senso che uno può pensare che ma qui non vale la pena questa parte di programma che è quella che gestisce la decodifica del file uno potrebbe chiamare una funzioncina che fa quel lavoro lì metti che qua ci fosse anche altro lavoro da fare tipo convertire in maiuscolo tipo pulire la punteggiatura eccetera anziché far tutto lì che poi si sbrodola magari posso fare una funzioncina che prende una stringa cioè la riga e mi dà la lista pulita ad esempio però a meno meno appeal in questo caso ok fin qui tutto bene salvo il fatto che se ci sono domande salvo il fatto che in realtà gli esami non si chiamano mica così si chiamano analisi matematica 1 si chiamano informatica no noi siamo brava gente la facciamo semplice si chiama informatica e basta la geometria c'è un nome tanto lungo quello che sto dicendo è che in realtà ci siamo un po' fregati da soli nell'immaginare che i campi fossero separati da uno spazio perché in questo modo ci siamo impediti di poter rappresentare dei dati che contenessero al loro interno uno spazio e infatti molte volte quando si hanno dei file strutturati che contengono dei dati non si usa lo spazio come separatore ma si usa la virgola come separatore allora se io avessi usato avessi scelto di usare la virgola come separatore avrei fatto lo stesso identico esercizio però avrei potuto leggere dei file in cui ad esempio il nome dell'insegnamento conteneva degli spazi al suo interno normalmente file di questo genere prendo il nome di file csv csv sta per comma separated variables variabili separati da virgola cioè non è che serve il c2 per fare sta roba in pratica il nostro programma questo qua di media pesata 2 come potrei dove è paste maledetta che non ti vedo non c'è grazie a lui allora facciamo un file nuovo pesata lo chiamo csv si è media pesata non so ma pesata scusatemi prendo media pesata 2 che è quello che mi piace di più e lo copio in quello tutto qua csv vuol dire che io le stesse informazioni le posso leggere da un file che si chiama non voti.txt ma voti.csv e l'unica cosa che mi cambia è qua dove faccio lo split perché lo split lo devo fare sul carattere di virgola e non sullo spazio cioè andiamo in debug qua ho aperto un nome file che è voti.csv che è sempre un file di testo semplicemente ho scelto di mettere la virgola dove prima c'erano gli spazi adesso dentro riga entriamo dentro il ciclo dentro riga ho informatica virgola 8 virgola 30 a fine a capo uguale prima ma c'è la virgola qui c'è un dettaglio in più quando faccio split sulla virgola lui mi divide quella stringa questa riga qua che abbiamo appena visto in campi prendendo i vari sottostringhe separate dalla virgola questo è il suo mestiere e quindi il primo campo sarà informatica stringa il secondo campo sarà 8 come stringa il terzo campo attenzione non è 30 ma è 30 a capo come stringa prima la capo non lo vedevamo perché lo split veniva fatto sugli spazi bianchi e la capo è un tipo di spazio bianco adesso facciamo lo split su un altro carattere il barrenne c'è perché dici scusami poverino il barrenne è dentro la stringa perché non lo devo mettere il carattere separatore è un altro lui è un carattere normale e quindi te lo devo lasciare te lo devo lasciare in mezzo alle scatole quindi in questi casi qua quando abbiamo un separatore diverso da spazio è abbastanza prassi comune di andare a toglierlo questo separatore un modo abbastanza comune è chiamare la rstrip rstrip restituisce una stringa restituisce una stringa senza dei caratteri finali uguali a quello che ho specificato quindi strippa via i barrenne il o i barrenne finali quindi prima di fare lo split tolgo il barrenne poi faccio lo split quindi in questo caso se rifaccio eseguire il programma arrivo fino al stesso punto è un po' più pulito perché la riga è sempre uguale ma facendo prima l'rstrip di un barrenne tolgo il barrenne quindi lo split lo farò sulla stringa che non ha più quel barrenne finale e giustamente mi dà i campi come prima adesso in questo esercizio specifico è inutile sarebbe inutile sarebbe inutile perché al campo 2 io lo converto in intero e quindi ci pensa già la funzione int a dire a me del barrenne non interessa e lo ignora però in generale se lo avessi invece mantenere come stringa dovessi fare altre elaborazioni che ci sia quel barrenne lì tipicamente mi dà fastidio quindi sta roba qua la scriveremo 200 volte nei nostri esercizi tutte le volte che c'è un file csv leggo una riga tolgo barrenne separo la virgola e poi dopo vedo cosa faccio con i campi dipende a quel punto ancora riserve come devo lavorare come devo salvarli eccetera ho modificato solo questo e il programma mi continua a calcolare esattamente la stessa cosa quindi quando vedete un file con i campi separati dallo spazio o un file csv è la stessa cosa cambia c'è su qui splitto a meno che mi sono perso le volte punto csv vabbè lo vado a riprendere è chiaro che i problemi cominciano a nascere se l'appetito cresce ancora e ad esempio volessimo rappresentare nomi di corsi che contengono all'interno una virgola se aveste il corso che si chiama questo quest'altro e quell'altro ancora questo virgola quest'altro quella virgola lì sarebbe ambigua perché non saprei dirti se fa parte del nome o se è separatore tra nomi e crediti e allora te ne inventi un altro allora prendi due punti allora prendi il punto e virgola oppure qui stiamo inventandoci o descrivendo il formato di un file di testo che usiamo per contenere dei dati normalmente il formato csv prevede di mantenere la virgola ma nel caso in cui delle stringhe di testo contengono a loro volta delle virgole o degli altri caratteri di metterli tra virgolette tra apici quindi io vedrei dei file che sono di questo genere qua ad esempio che è un gran casino perché a sto punto se qua ci fosse una virgola non lo posso più gestire con una split perché io dal punto di vista della leggibilità del file è chiaro che sto facendo che sto dicendo guarda questo è un nome unico tra virgolette che poi dentro c'è una virgola magari ma le altre virgole quelle fuori dalle virgolette sono quelle che contano ok io e noi lo capiamo split non lo capisce split vede una virgola dice ok c'è una prima stringa che inizia con doppi apici e te li tene dentro te li mette dentro i doppi apici arriva fin qui il secondo campo è qui fino ai doppi apici compresi no non è quello che devi fare è però split questo quell'intelligenza riccia non va oltre allora cosa vuol dire vuol dire che da qua comincia a diventare complicato non posso più fidarmi di un semplice split mi serve un algoritmo più complicato per andare a gestire casi come questi posso farmi venire mal di pancia oppure posso andare a dare un'occhiata alla libreria standard dove è finito eccolo qua allora la libreria standard dove scopro che c'è il formato generalmente è una cosa di questo genere doppi apici per delimitare i campi e le virgole per separarli così dentro i doppi apici posso avere altri altri delimitatori e c'è un modulo della libreria standard che si chiama csv proprio che è stato pensato per facilitarci la vita nella lettura e scrittura di file csv anche complicati tra l'altro un esempio di file csv complicati sono quelli che arrivano da excel se voi avete un foglio excel potete sempre fare salva come csv poi tipicamente excel nella versione italiana ti mette come separatore il punto e virgole non la virgola perché gli piace fare le cose storte però è un modo semplice per salvare i file e renderli leggibili a noi le funzioni del modulo csv permettono di leggere i file csv anche in qualunque formato anche complicato evitandoci il lavoro come si usano? beh si usano in modo relativamente semplice c'è uno dentro il modulo csv c'è un modulo che si chiama un oggetto che si chiama reader una funzione che si chiama reader e una funzione che si chiama writer immaginiamo che per leggere un file ci servirà la prima la reader e quando abbiamo un file che sappiamo essere in formato csv non leggeremo più direttamente le righe dal file dall'oggetto file dall'oggetto f ma tramite la funzione reader ci facciamo restituire un altro oggetto che è un reader di csv specializzato nel leggere righe csv e questo reader di csv si può iterare e a ogni iterazione lui mi sputa già una lista con i campi separati cioè mi da già i campi quindi in questo caso fatemelo fare leggi csv non abbiamo tempo di fare l'esercizio completo ma per farvi vedere come viene letto poi è facile integrare le due cose noi abbiamo dobbiamo importare l'oggetto reader e a questo punto come faccio a leggere il mio file csv le apro il file e questo per forza voti.csv in lettura e il cloud non me lo toglie nessuno poi però le operazioni di lettura le lascio fare al reader quindi lo posso chiamare reader r uguale reader df cioè prende un oggetto file e restituiscimi in oggetto reader chiamiamolo csv reader dai csv no csv c'è già il nome nel modulo scusami questo oggetto qua è un oggetto che si può iterare quindi ci possiamo mettere e fare un for che mi dà già ad ogni iterazione i campi cioè campi è la variabile che usavamo prima che ottenevamo attraverso lo split vi ricordate ecco mi arriva già in automatico purché io iteri non su f no ma su csv reader eccoli qua quindi ci pensa quella funzione reader del modulo csv a fare la strip a fare lo split e eventualmente gestire campi separati delimitati da virgolette di questo genere nel caso in cui ci siano in modo del tutto trasparente nel caso in cui il file sia formatato in modo strano ad esempio quando arriva da excel che il separatore non è una virgola ma è un punto virgola ricordate che qua non stiamo facendo noi la split quindi non possiamo dire noi quale carattere usare ma qua c'è un parametro opzionale che si chiama delimiter quindi se fosse un file che arriva da excel separato dal punto virgola semplicemente metterei nella creazione del reader guarda tu leggi questo file sappi che però il separatore non è come dovrebbe essere una virgola bensì un punto virgola ve lo passo come parametro opzionale alla funzione reader adesso in questo caso no perché abbiamo la virgola quindi non abbiamo bisogno di specificarlo comunque questo c'è anche nelle slide quindi solo per ricordarci che nel caso in cui il file csv sia separato ma non da virgole non dobbiamo disperare perché la libreria l'ha già previsto ok quindi questo che vogliamo è la meccanica di base nella lettura dei file strutturati strutturati su più campi poi è chiaro che tutto dipende da che cosa ci devo fare con questi contenuti ma questo diventa poi un problema di algoritmo sulle liste ci siamo tolti in modo abbastanza standard la lettura del file stesso mercoledì invece vediamo come giocare con i file che invece non contengono dati ma contengono testi no? ci divertiremo a analizzare poesie come questa adesso vi lascio alla lezione successiva grazie a tutti Grazie.